Ciao a tutti ragazzi, nuova ricetta, nuovo video. Oggi in particolare andremo a preparare una ricetta tipica delle mie zone che si chiama brecciata. Che cos'è? Non sono altro che delle semplici cime di rava o broccoletti che vengono prima lessati e poi saltati in padella con delle fette di pane raffermo, acciuga, aglio e peperoncino. È un po' d'olio. Una ricetta semplicissima ma tradizionale e quindi ho deciso di portarla qui sul mio canale. Come sempre, mi raccomando ragazzi, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici. Detto questo, andiamo a preparare la brecciata sannita. Sigla! Gli ingredienti che ci occorrono per la preparazione di questa ricetta sono un chilogrammo di cime di rava che ho già scelto tre fette di pane, meglio se il pane raffermo quattro filette di acciuga sott'olio due spicchi d'aglio due peperoncini olio, sale e pepe Prima operazione che facciamo andiamo a ricavare dal nostro pezzo di pane tre fette tagliate abbastanza spesse più o meno l'altezza di ogni fetta dovrà essere di un paio di centimetri poi dividiamo ogni fetta a metà e andiamo a ricavare dei tocchetti di pane recuperiamo i nostri tocchetti e li mettiamo all'interno di una ciotola e li teniamo momentaneamente da parte sul fuoco ho una pentola abbastanza capiente in modo da accogliere la verdura all'interno con l'acqua che ha raggiunto già il punto di ebullizione vi svelo un segreto per far sì che i broccoli e le cime di rava ma in particolare in genere tutte quante le verdure a foglia verde non perdano il loro colore brillante e luminoso verde che hanno quando sono crude dovete evitare di inserire il coperchio quando le andate a lessare e soprattutto non dovete metterne troppe all'interno quindi il rapporto di verdure che inserite all'interno deve essere sempre proporzionale alla quantità di acqua e alla dimensione della pentola li facciamo lessare per circa 10 minuti una cosa importante io all'interno dell'acqua non ho aggiunto sale e per verificare la cottura basta semplicemente toccare un gambo di cima di rapa e deve risultare al tatto abbastanza tenero li andiamo a recuperare con delle pinze e li mettiamo all'interno di uno scolapassa con al di sotto un contenitore per recuperare l'acqua che i broccoli perderanno quest'acqua ci occorrerà successivamente per il momento li teniamo da parte in una padella versare un bel giro di olio extravergine d'oliva i due spicchi d'aglio che possiamo lasciare tranquillamente interi e 4-5 filetti di acciuga sott'olio che in questa ricetta ci stanno davvero molto molto bene e conferiscono poi quel tocco di sabidità a tutto quanto l'intruio poi è il turno del peperoncino qui come dico sempre va un pochino a gusti se vi piace potete spezzettarlo all'interno se non gradite il piccante potete evitare di metterlo oppure potete lasciare il peperoncino intero in modo che il piccante rilasciato sarà davvero davvero lieve in questo caso io ne vado ad inserire uno intero mentre l'altro lo vado a tagliare a pezzettini abbastanza piccolini perché poi a me il piccante piace e in questa ricetta ci sta particolarmente bene accendiamo la fiamma e non appena l'olio inizia a soffriggere inseriamo all'interno le cime di rapa che abbiamo lessato in precedenza i tocchetti di pane diamo una prima leggera mescolata a tutti quanti gli ingredienti dopodiché andiamo ad ammorbidire leggermente il pane utilizzando l'acqua che vi dicevo in precedenza che abbiamo recuperato dei broccoli aggiustiamo con una macinata di sale e una macinata di pepe mescoliamo bene tutti quanti gli ingredienti e lasciamo cuocere a fiamma media o bassa per circa 10 minuti fino a quando l'acqua non sarà completamente evaporata durante la cottura vi consiglio di eliminare i due spicchi d'aglio che avevamo inserito in precedenza perché ormai hanno rilasciato il loro sabore all'interno e quindi non ci occorrono più dopo 10 minuti l'acqua è evaporata e il pane ha preso tutti quanti i sapori e gli aromi che sono presenti all'interno della padella quindi semplicemente spegniamo la fiamma e andiamo a servire in un piatto da portata recuperando sia le cime di rapa sia il pane e se vi piace anche un pochino di peperoncino ragazzi questa ricetta è davvero semplicissima e mi ricorda tanto tanto casa di solito mia mamma la preparava la sera e a volte la mangiavo anche come piatto unico ma può essere utilizzata tranquillamente come un contorno è veramente qualcosa di eccezionale quindi vi consiglio di provarla anche voi a casa come sempre lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e con voi ci vediamo settimana prossima con la prossima ricetta ciao a tutti ciao a tutti